Alla fine lasciate tutto, ve ne andate? Sì, abbiamo venduto, possiamo partire. Signor Festa, abbiamo scoperto che non ci lavorava per gente che voleva nascondere dei rifiuti tossici nei campi qua intorno. E' un giro grosso, si tratta dell'eco-mafia. Magari non sopravvaga, anche voi faceste come gli altri, che spartassi la nostra terra con la schifezza che viene dal nord. Ma voi gli avete detto di no. No, non è così. Punzo, non c'era niente che spartire con quella là. E invece credo che sia anche per questo che voi l'avete ucciso. Vi sto offrendo la possibilità di confessare, Rosario. Il giudice ne ti racconto. Non avete niente in mano, dottoressa. Forse no. Ma potrei cercare il coltello. Se non ve ne siete ancora disfatto, la scientifica ci troverà il sangue di vostro figlio. Rosario, sapete benissimo che non si sarà accordato con i mafiosi per sottrarre quella roba nei vostri campi. No, non si vuole tutt'altra cosa da me. Ero ossessionato dalla povertà. Diceva che aveva smesso di studiare perché io non me lo potevo permettere. Ma non era così. Avrei fatto i debiti per farlo studiare. Perché quella sera avete aspettato che tornassi dalla discoteca? La mattina mi ha detto che voleva sottrarre dei rifiuti tossici nei miei campi. Ha detto che aveva già preso accordi. Ma io non volevo avvelerare le mie terre. Ho aspettato che rientrasse. E io ho detto che non se ne faceva niente. Tu sei vecchio, vecchio e superato, ha iniziato a dirmi. Ha detto che con le mie idee ho portato a tutti al fallimento. Io lo guardavo senza capire. Ha tirato fuori una mazzetta di banconote. Era tutto fiero lui. Non so cosa mi ha preso. La mano mi è scivolata in tasca. Lui porto sempre un coltello. E' l'ultima cosa che ricordo. Mia moglie mi rimarrà fuori di tutto questo, dottoressa. Me lo promette. Però dovete costituirvi, signor Festa. Subito. Non c'è bisogno.